Di tanti piani, progetti di riqualificazione urbana del quartiere, ma anche di Sant'Odoro, perché vale anche per Sant'Odoro, di concreto si è visto poco. Adesso c'è un nuovo bando sulle periferie che speriamo che possa non essere una scatola vuota, ma possa realmente cambiare la vivibilità di questo quartiere. Dai progetti di sicurezza, dai progetti di convivenza con i circoli, dai progetti di convivenza anche col centro sociale Zappata, con una ferita aperta all'interno del quartiere, ma cinque anni non si è visto niente di concreto. Tante promesse anche da parte del sindaco Doria hanno mantenuto soprattutto il sindaco Doria delle colpe su questa gestione qua, perché San Pierdarena e Sant'Odoro nel suo programma elettorale erano il punto di partenza di una riqualificazione cittadina che oggettivamente non c'è stata. E' questa la denuncia del centro-destra contro l'attuale amministrazione comunale. Il quartiere di San Pierdarena, nonostante le tante promesse ai cittadini, deve fare conti con numerosi problemi. La denuncia arriva da Piazza Masnata, una delle zone ritenute più critiche in cui gli abitanti lamentano schiamazzi e soprattutto malavita durante le ore della notte. L'attacco è lanciato soprattutto nei confronti del sindaco che aveva individuato in San Pierdarena il primo quartiere soggetto a una pesante riqualificazione. Ebbene, ancora oggi, i problemi sono molti e difficili da risolvere. Questa piazza stamattina sembra bella tranquilla. Al pomeriggio si trasforma completamente. Noi già abbiamo questa zona coperta da ordinanza che puntualmente nessuno fa rispettare. Quindi i problemi sono gli stessi. Ubriachezza molesta, urinano ovunque, cioè schiamazzi a tutte le ore e quindi qui c'è poco controllo. Ma qui proprio manca la volontà politica di riqualificare nel vero senso della parte.